Questa è una ricostruzione immaginaria dell'organo della Chiesa di San Francesco a Manfredonia, perché quel che rimane di questo organo è evidentemente in pessime condizioni e probabilmente è irrecuperabile. La tastiera è di 49 tasti e la pedaliera di 12 pedali. I registri presumibilmente sono due, il principale è l'Unda Maris, a cui si aggiungono gli armonici, l'ottava, la decima quinta, la decima nona, la vigesima seconda, la vigesima sesta e infine l'ottava di basso. Ora vi faccio ascoltare come suonerebbe il nostro organo un brano preregistrato con i suoi registri e gli armonici. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.